Wayne Eden ha vinto il Gran Premio Lotteria di Agnano, una delle prove più importanti del trotto internazionale. Con questo successo il cavallo, noto anche a chi non si interessa di Ippica, perché è stato vittima di un clamoroso rapimento, ha regalato 200 milioni al fortunato possessore del biglietto Serie A numero 43748 venduto a Latina, che gli era stato abbinato. Nonostante una limitata presenza di cavalli e scuderie straniere, la corsa non ha deluso, dopo tre batterie sono giunti in finale i cavalli migliori, tra cui i favoriti Delfo, Weimeca e Wayne Eden. I mille metri decisivi sono stati entusiasmanti e non ha avuto fortuna il nostro Delfo, da 12 anni un cavallo indigeno non vince a Agnano, che ha rotto ben due volte. Splendida la gara del vincitore che si è imposto con il tempo di 1.147, sorprendente il francese Dalco giunto secondo. Questi i biglietti milionari. Serie A numero 43748 venduto a Latina e abbinato a Wayne Eden. Serie O numero 49096 venduto a Roma e abbinato a Dalco scondo. Serie A numero 47201 venduto a Lucca e abbinato a Weimeca. Una corsa che oltre tutto mi ha allevato la... Grazie.